Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora vi racconto una cosa che mi è successa ieri in treno, molto divertente, che mi ha fatto anche un po' pensare. Stavo tornando da Venezia, lo scompartimento del treno era bello affollato, anche perché c'era una scolaresca di bambini e di bambine delle elementari. Tanto una scolaresca insolitamente tranquilla, che al solito fanno un casino, che è una cosa incredibile. Però del resto, i bambini fanno i bambini, cioè è giusto così insomma. Apro una piccola parentesi, solitamente quando sono in vaporetto li trovo che mi ritornano da scuola o vanno a giocare a calcio o cose del genere. In vaporetto siamo proprio tipo schiazzati quasi, ok? Infatti sarebbe una situazione da risolvere. E a volte mi trovo qualche bambino seduto vicino, no? I bambini hanno una caratteristica, quando vedono qualcosa di elettronico, vedi proprio gli occhi, tum, puntati sullo schermo, no? Io che quando sono in vaporetto, quando sono in treno, spesso volentieri ho l'iPad, che guardo le serie TV, so benissimo che quando magari c'è un bambino che torna da scuola, che si siede vicino perché c'era al posto libero, so benissimo che guarderà lo schermo. Quindi in quei casi, onde evitare che il bambino in questione veda, perché guardo cose sui serial killer, cose un po' cruente, ok? Onde evitare che veda cose così, so che ho sempre qualche puntata dei Simpsons o cartoni animati in genere, così quando il bambino punterà l'occhio vedrà il cartone animato, metto anche i sottotitoli in italiano, così segue, così lui sta buono, siamo tutti contenti, ok? Pensate che una volta, l'anno scorso forse, c'è stato un bambino che mi ha anche detto no no cambia puntata, questa l'ho già vista, vale. Comunque tornando al discorso di ieri, ero in treno, c'era sta scolaresca, ok? A un certo punto si alzano tutti, perché c'era la loro fermata, la maestra dice a loro adesso tutti in fila che dobbiamo scendere, mi raccomando, quindi c'era la corsia centrale tra i due sedili piena di questi bambini che stavano scendendo, a un certo punto sento c'era un bambino che aveva, avete presente lo sguardo assente, tipo pescelesso o così insomma, e dietro di lui c'aveva una bambina, io non so dare bene l'età, cioè non sono mai stato bravo nel dare l'età, la prima fascia delle elementari, mettiamola così, per dirvi quando guardavo qualche volta il programma di papi, quello dove bisogna indovinare l'età delle persone, io non dico l'età giusta, andavo da 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, ed ero capace di sbagliare anche in questo. Comunque c'era sto bambino che stava uscendo, la bambina dietro lo tirava per la maglietta e gli fa, ti ho detto che devi starmi vicino, se no mica ti sposo un giorno. Cioè il senso, e la frase era questa più o meno. E là mi ha fatto morire da ridere, la cosa mi ha fatto veramente morire da ridere, perché fa capire di come le donne, le bambine, cioè l'universo femminile ha già le idee chiare fin da piccolo, fino a quando sono piccole, sanno già cosa vogliono, sanno già organizzare, sanno già tutto, dopo magari non si sposerà con lui, anche se a me piacciono le favole, sarebbe bello sapere che le storie d'amore nate nei banchi degli elementari vanno avanti, avanti, avanti. Però sanno già le donne cosa vogliono, l'universo femminile sa già, organizzano tutto quanto. E penso invece ai maschi, che prima di sapere cosa vogliono, cioè un bambino deve passare la fase dei videogiochi, la fase che vuole stare solo con gli amichetti, la fase che vuole uscire a bere, la fase che non vuole impegnarsi, la fase di qua, la fase che non lo so cosa voglio, la fase, i maschi passano una marea di fasi, ok? Questa è la cosa che mi fa, mi fa un po' pensare, soprattutto mi fa pensare io in che fase sono. Ci devo pensare, per niente, chissà in che fase sono, io. Vabbè, buonanotte.